buongiorno benvenuti questa è la segna stampa di oggi mercoledì 15 maggio le notizie ovviamente riguardano tutte quante questo governo che veramente mi fa impazzire perché prima siamo passati sulle liti diciamo sui temi fondamentali del governo quali erano i dossier l'immigrazione la destra e la sinistra adesso le liti sono diventati come dice giustamente in questo dio di tipo personale non si sopportano più l'uno con l'altro l'ultima uscita l'unica che vale la pena leggere sui giornali oggi riguarda la questione buongiorno a gerardo ea gianmarco barcellona la questione che riguarda uno dei sottosegretari più importanti di questo governo che è giorgetti che è l'uomo diciamo è il letta di salvini è in questo caso ieri che cosa ha detto giorgetti guardate che questo governo dopo il 27 non dura è stato trascinato ieri giorgetti e non è un uomo qualsiasi è anche vero ve la dico proprio esplicitamente proprio questa mattina c'è un'altra questione di giudiziaria finanziamenti illeciti di una persona per bene sicuramente per bene come presidente della confindustria lombarda che si chiama bonometti secondo me lì c'è aria giudiziaria in giro quando nei palazzi c'è quest'area giudiziaria tutti si sentono diciamo un po sotto attacco e giorgetti secondo il tam tam romano dovrebbe essere un altro di quelli sotto attacco non fosse altro perché anche su di lui fu aperta la questione di siri perché aveva all'interno della sua diciamo ministero che non è un ministero comunque del suo dipartimento preso uno stagio preso con un contrattino il figlio di arata che come sapete è indagato per la vicenda dell'eolico che è costata il posto a siri quindi ci sono c'è un'area questa volta veramente brutta nel governo che non deriva soltanto dalle questioni diciamo politiche e dai vertici che sono saltati come notano oggi retroscenisti dei giornali ma su questioni che riguardano questioni molto più personali e giudiziarie che quelle si fanno davvero male ministro torno subito invece è il tema di repubblica cioè il fatto che ieri ha già mandato in orbita sui suoi siti ormai i siti contano più dei giornali sul fatto che il ministro passa pochissimo tempo al ministero cosa peraltro verissima questo vale per di maio ma vale ancor di più per selvini in effetti e poi prendono sotto minniti che dice no io al ministero ci stavo sempre bravo minniti il punto fondamentale dunque è che questo ministro ed è l'idea che da un po circola lavori poco pensi molto più alle sue pubbliche relazioni ma la cosa più straordinaria di oggi dal punto di vista politico è il fatto quotidiano che ci dà sempre delle grandi soddisfazioni oggi se la prende ma quello che abbiamo bene dal fondo di travaglio con pomicino voi direte che volete da questo signore di 90 anni di 85 anni che ha rappresentato un pezzo della prima repubblica pomicino che tra l'altro travaglio detto mi sta anche simpatico perché schisse una lettera per fare il no al referendum costituzionale di renzi e quindi stava simpatico al fatto di travaglio perché c'entra pomicino perché pomicino avrebbe fatto un accordo di consulenza non ho capito cos'è che dice si candida questo è il titolo della fatto si candida al ruolo di eminenza grigia del pd come sono si candidasse come se ci fosse un posto dove ci sono le eminenze grigie qua mi trovate il la stanza delle eminenze grigie si candida al posto di eminenza grigia del pd di zingaretti e quindi quello che il giornale del 5 stelle cioè il fatto rivendica è che un ex diciamo indagato tangentista secondo loro perché ha patteggiato ed è stato condannato per una tangente beh insomma sia l'eminenza grigia del pd di zingaretti che quindi è diciamo fa orrore perché ha utilizzato questo signore inqualificabile mentre ezio mauro continua sull'altra grande polemica se vedete google trends l'abbiamo fatta ieri a matrix dicono tutti quanti che nessuno le persone parlano di cose normali se voi fate google trends e ci mettete la parola salario minimo che è una minchiata che stanno chiedendo in queste ore diciamo la sinistra e mettete l'altra parte l'altra linea fascismo vedete che la linea fascismo va così la linea salario minimo va così sono le linee delle richieste delle ricerche su internet c'è la gente del salario minimo se ne frega del fascismo ancora tantissimo e repubblica batte come tutte le elezioni lo fece anche prima del 4 marzo sulla questione del fascismo e lo chiama fascismo 2.0 anche loro si ricordano si rendono conto che è ridicolo pensare al vecchio fascismo finalmente se ne sono resi conto ma dicono che il fascismo 2.0 crei denegazionisti altrettanto pericolosi come quelli che c'erano quando diciamo i crociani magari pensavano che il fascismo fosse un movimento passeggero matteo stacca la spina a questo governo dice sergio e ugo ciao a nicola vabbè insomma vedo che anche su instagram stiamo andando molto bene vi saluto a tutti quanti voi è fantastica l'ossessione per il fascismo invece io l'ossessione ce l'ho soltanto per il cardinale elemosiniere perché ha commesso un illecito ed è stupendo ma questo mi interesserebbe poco tutti noi commettiamo degli illeciti tutti noi però la cosa che più mi diverte di questo cacchio di cardinale di questa eminenza grigia no porpora di questo cardinale principe della chiesa che va là con un tecnico ovviamente perché anche la retorica lui si getta nel pozzo toglie sigilli riapre ma di che cacchio stiamo parlando c'è un tecnico che gli ha dato una mano è chiaro era tutto concordato premeditato porca puttana e c'è ragione bel pietro andate su internet e cercate per favore su internet digitare curia sfratto se voi avete una casa della curia cioè del cardinale lemosiniere e non gli pagate un affitto secondo voi che fanno via sfrattati come giusto che ci sia la proprietà privata prevede lo sfratto per chi non ti paga questi cazzo di invece di occupanti possono fare gli affari loro possono decidere di avere la discoteca rave che fa la rave questo venerdì che si chiama amen hai capito cardinale lemosiniere amen si chiama il rave di questa settimana in cui finalmente ci si fa un cannino tutti i fratelli tutti i amici tutti i contenti finalmente possiamo andare a rave amen perché il cardinale ha strappato i sigilli ha fatto sì che noi si potesse andare al rave poi certo ci sono i bambini ci sono le altre persone messaggero ok il giornale straordinario su questa vicenda è quello che sta facendo la più giusta battaglia contro questa minchiata del cardinale e questa illegalità che viene così un po passata da tutti quanti ma no ma che vuoi che sia c'erano 100 bambini sì cari miei l'azienda che proprietaria di quel palazzo tra l'altro sta pagando un milione di euro di imu per quel palazzo io ieri me la sono presa con gli amici di sky poi dopo devo dire che sbaglio e l'ho detto giuseppe de bellis direttore di sky perché ho sbagliato perché poi ho visto tutta la giornata cacchio hanno intervistato nordio che dice delle cose sacrosante quindi bravo sky in questo senso pessimo e lo ripeto non solo loro ma l'ho visto veramente praticamente su tutti anche sulla mia trasmissione era sbagliato quella roba lì non riguarda 400 ragazzini e che stanno lì poverini occupati quello riguarda un principio la proprietà privata è privata e se io pago le tasse su quella proprietà privata e arrivano 500 persone a casa tua e te la occupano si sgombera subito che si chiami casa pound che si chiami centro sociale di sinistra che si chiama attacca che si chiama chiunque un paese in cui non si sgombera la proprietà privata è un paese che è definibile socialista vogliamo vivere in questo paese noi no non vogliamo vivere in questo paese la chiesa si occupi degli affari suoi vuole regalare i suoi palazzi vuole regalare quei 450 persone il centro interculturale interreligioso lo faccia ma non ci rompa le palle a noi no non è difficile da capire però penso in un paese normale spread salvini ieri parla dice che si deve andare sopra il 3 per cento il titolo del messaggero peraltro aveva già detto proprio noi a quarta repubblica ma ieri lo spread sale a 284 insomma ci sono tensioni sui mercati che derivano non soltanto dall'italia ma ovviamente dalle grandi questioni economiche statali buco di 253 mila persone ne mancano 253 mila mi ha scritto un email uno statale e dicendomi ma tu ce l'hai un po con noi sì sì devo dire la verità sì perché è vero che su 3 milioni di statali ci saranno 100 mila 200 mila 300 mila anche un milione di persone che si fanno un mazzo così maestre professori impiegati e medici portantini chiunque messi comunali l'altro giorno un postino non è dello stato non sapete che bella faccia che grande dedizione al lavoro che c'era sono sicuro ma abbiate pazienza rispetto a questa gente ce n'è tantissima altra che non fa assolutamente nulla e che si e che si e lo dico perché lo vedo tutti i giorni perché ho a che fare tutti i giorni con queste persone chiunque viva in questo paese sa che c'è l'uomo all'agenzia delle entrate che lavora bene piuttosto che lo sfaticato che te va dica allora siccome in un paese normale dica lo cacci o lo sanzioni ma nella nostra pubblica amministrazione questo non avviene io penso che sia meglio affamare la bestia cioè non sono preoccupato dello sfacimento del nostro stato burocratico perché meno burocrazia purtroppo anche se mal regolata mal governata nella sua e nel suo dimagrimento e comunque ci può fare bene altre questioni invece riguardano whatsapp e l'economia whatsapp è fantastica tutti voi usate whatsapp quando arriva oggi l'ho letto c'è brambilla che se ne occupa nel fondo del quotidiano nazionale ma c'è tanti altri che se ne occupano mi sembra che sia anche il sole 24 ore whatsapp è favoloso perché quando manda un messaggio rimanda sempre quella inutile notazione attenzione che questa questo messaggio è a una crittografia end to end whatsapp è come quelle roppi coglioni che ci sono delle delle password tu hai una password per il wifi ti dicono metti la maiuscola la minuscola il segno speciale deve essere almeno di 8 caratteri lo devi cambiare una volta a mese e mi fa venire il sangue al cervello io voglio essere intercettato no perché se no fai fastidio a tutta la community dicono gli informatici no io voglio essere intercettato benissimo questo c'è la criptografia end to end tu devi mettere le password eccetera poi ti accorgi che un programma di una azienda israeliana cosa succedeva chiamavano whatsapp quindi un numero sconosciuto chiamava whatsapp la sola chiamata senza neanche la tua risposta whatsapp faceva entrare una specie di cavallo di troia un virus un'applicazione nel tuo pc e nel tuo telefonino che lo controllava completamente il microfono i tuoi messaggi l'hard disk tutto vi rendete conto la criptografia end to end stessa cosa vale per le password le fate minuscole maiuscole cambiare ogni mese e poi vi accorgete che yahoo ne ha per un buco gli erano rubate non so 6 miliardi e altrettanto altre grandi case questo è alla è una battaglia con i nuovi burocrati del secolo gli informatici nel 90 per cento saranno bravissimi intelligentissimi straordinari e semplificatori ma c'è quel 10 per cento degli informatici che vi complica la vita perché non hanno un minimo di elasticità mentale io voglio che per cinque minuti la mia password sia e quindi farò delle password complicatissime ci siamo intesi poi dopo ti scrivono adesso mi scriveranno tutti quanti guarda dopo tutte queste robe qua mi scrivono gli informatici dicono guarda che lo facciamo per il tuo bene eccetera grazie grazie per il mio bene grazie nuovo patto pirelli quel genio di tronchetti rifai il patto con i cinesi probabilmente cambierà poco la governance cioè rimarrà l'italianità del gruppo ma cambierà molto il fatto che lui tronchetti che il grande manager dell'azienda resterà alla guida della società per altri tre anni e non uno come dovrebbe essere secondo le scadenze mi sembra più o meno siano questi tempi lui al 10 per cento della società i cinesi il 45 per cento ma la governance cioè gli accordi fanno sì che lui possa comandare e l'italianità venga mantenuta unicredito si vuole comprare commerce bank boh l'idea che la banca italiana vada e diventa e diventi con concorrente di deutsche bank oltre ad avere la sua ex controlla la sua controllata in germania ne abbia anche un'altra che peraltro sta in situazioni disastrose è un azzardo qualcuno nega che ci sia questa ipotesi mf e invece come si dice il sole 24 ore sono ancora convinti che ci sia andy dice che quella di giorgetti mi pare solo tattica io ormai non riesco più a capire nulla su questo governo se tattica o non tattica quello che io capisco che in un mese e mezzo da questa parte non c'è stato un consiglio dei ministri non hanno sbloccato un decreto non hanno sbloccato un cantiere non hanno fatto assolutamente nulla abbiamo paralizzato questo paese a sentire fascismo dalle opposizioni casa pound il problema nazionale dalle opposizioni e dal governo invece l'unica cosa che abbiamo capito è che di maio e salvini non si parlano e si bastonano su qualsiasi cosa si può andare avanti così forse come la pubblica amministrazione essere non governati è meglio che essere governati boh vedremo io vi do appuntamento come sempre tra poco un pezzo di gervasoni bellissimo sul sito nicolaporro punto it spero che abbiate letto il caso huawei scritto da antonio pilati sul sito nicolaporro punto it sempre così come il reportage secondo me la straordinaria new entry michael serfadi che scrive di del salone del libro e della esule dell'olocausto di auschwitz a cui scrive una lettera aperta secondo me piena di dignità e di interesse anche per tutti voi grazie a tutti quelli che lunedì e martedì ci hanno seguito con quarta repubblica e matrix davvero tanti anche la settimana prossima lunedì e martedì faremo matrix e quarta repubblica un saluto a tutti quanti voi sia quelli di facebook sia quelli di instagram ciao ciao